Giuseppe Montalbano, possiamo dire che oggi è una fase preparatoria rispetto a quella che sarà la manifestazione di giorno 7. C'è partecipazione da Sciacca che comunque già si è organizzata in varie manifestazioni di protesta, quindi sintomo che comunque i motivi sono reali. Sì, assolutamente sì, siamo in una fase organizzativa, la conferenza stampa di oggi vuole fare il punto della situazione, parteciperemo con Ne Pullman alla manifestazione di giorno 7 ed è una manifestazione che in qualche modo dovrà fare pressione anche alle istituzioni regionali rispetto non solo alle nuove questioni del caro energia, come dire, elemento per il quale oggi è stata indetta questa manifestazione, ma anche per delle questioni assolutamente sospese nel tempo. Quindi noi, come dire, saremo presenti a questa manifestazione, invitiamo le attività artigianali e commerciali ad essere vicine a chi lunedì deciderà di andare a manifestare in piazza e ne chiediamo una chiusura simbolica proprio per vicinanza a sostegno delle attività che andranno a manifestare. Possiamo dire che la manifestazione di giorno 7 non è una manifestazione politica, non è contro il governo, ma è una protesta del tessuto sociale che in questo momento soffre? Ci siamo riuniti nel cartello di tutta associazione e comitati sia di categoria che dei lavoratori perché è qualcosa che riguarda tutti, ma non riguarda tutti qui in Sicilia, ma riguarda tutti in Europa. L'Europa è la vittima di tutta questa situazione degli aumenti energetici. Quindi in attesa che Roma e Bruxelles assumano le loro scelte e già da oggi ci saranno gli incontri, noi andiamo a protestare, a manifestare lì a Palermo, alla Regione, proprio per fare capire che anche la Regione dovrà fare la sua parte perché a cascata gli enti locali hanno le loro funzioni e i loro compiti. Uno di quelli più urgenti in assoluto è quello di poter dare qualche contributo a tutte le società di impresa che stanno veramente per chiudere e non è il caso che lo spieghiamo qui perché la gente ha capito qual è la situazione di gravità che stiamo vivendo, ma quello anche di fare degli interventi strutturali quali per esempio la Sicilia che beneficia di clima e vento può utilizzare molto l'eolico e molto il fotovoltaico. Ci saranno sicuramente fondi nazionali ma anche fondi regionali saranno necessari perché questo possa renderci autonomi e domani non dovere gridare sempre alla paura di dovere soccompere perché altri decidono di fare una guerra. Giuseppe Caruana, la manifestazione è giorno 7. Chi può partecipare? Chi può venire con voi a protestare? Tutti, tutti coloro che hanno voglia di manifestare questo disagio perché comunque sarà un grido che porteremo l'attenzione del governo regionale e di tutte le istituzioni che coinvolge tutti quanti anche famiglie perché dentro le imprese ci sono le famiglie quindi l'appello è intanto ad aderire alla manifestazione il giorno 7 con la chiusura dell'attività per tutta la giornata e chi vorrà dopo una formale adesione potrà tranquillamente partecipare alla manifestazione di Palermo, abbiamo messo a disposizione in questo momento due pullman ma stiamo anche guardando al terzo se ci saranno adesioni massicce necessarie per cui chiunque vorrà basta per venire alle organizzazioni di categoria o sindacali la propria adesione e lunedì alle 7 e un quarto si partirà da Piazzetta da Rosa per andare in quel di Palermo.